buongiorno a tutti benvenuti al consueto appuntamento mensile currency watch l'appuntamento di cambiavalute.ch dove cerchiamo di capire se è il momento giusto o no di cambiare i franchi svizzeri in euro io sono luca di scacciati vi do il benvenuto a questo appuntamento oramai diventato un appuntamento fisso appunto di cambiavalute.ch fatemi condividere il mio monitor ecco è già condiviso perfetto siamo sul sito forecaster.biz dove appunto possiamo subito andare a vedere il cambio franco svizzero euro questo è il software che utilizziamo per andare a prendere un po di informazioni interessanti riguardo appunto al nostro cambio preferito prima di iniziare però fatemi ricordare che se andate su cambiavalute.ch poté sempre tenere d'occhio la pagina promo eccola qui la clicchiamo come vedete se sono sempre attive delle promozioni per esempio in questo momento potete presentare un'azienda e appunto qualora iniziasse a cambiare con noi ricevereste 500 franchi se siete già nostri clienti ci presentate un amico ricevete entrambi 25 euro se invece cosa stranissima quasi impossibile in ticino non siete ancora nostri clienti potete guadagnare fino a 25 euro con il primo cambio benissimo pagina promo andiamo subito sul sulla pagina appunto di franco svizzero contro euro perché ci eravamo lasciati la scorso lo scorso appuntamento di currency watch eravamo appunto su praticamente questi massimi eravamo ad inizio settembre appunto del eravamo ad inizio del mese scorso dove sostanzialmente avevamo visto che secondo i dati incrociati della stagionalità quindi delle tendenze del franco svizzero contro l'euro e i dati appunto degli istituzionali quindi come sono posizionate le grandi banche sul franco svizzero avevamo visto che con buone probabilità poteva essere quello davanti a noi un periodo un po di debolezza per il franco svizzero avevamo visto appunto che la tendenza del cambio franco svizzero euro poteva essere un pochettino ribassista appunto almeno per tutto il mese addirittura questa tendenza ribassista poteva continuare lo abbiamo visto appunto nell'appuntamento della volta scorsa addirittura fino a tutto il mese di ottobre inoltrato fino a sforare addirittura all'inizio di novembre dove vediamo appunto sempre sui dati della stagionalità che c'è una sorta di inversione di tendenza però andiamo con calma perché c'è sono tante cose da vedere infatti se nel precedente appuntamento avevamo visto che i prezzi del cambio franco svizzero euro erano molto correlati a quello che erano le medie storiche gli andamenti storici per chi fosse la prima volta che vedesse questo appuntamento in questo grafico che cosa vediamo vediamo la media mettiamo solamente il grafico a sette anni vediamo quello che mediamente è successo in un determinato arco temporale sul cambio franco svizzero euro appunto negli ultimi sette anni e vediamo appunto che dal mese scorso dall'inizio del mese scorso ci aspettavamo un movimento laterale ribassista eccolo qua questo è quello che è successo sul cambio franco svizzero euro negli ultimi sette anni mediamente e questa tendenza dovrebbe appunto continuare fino all'inizio di novembre una cosa però è cambiata la correlazione il prezzo attuale ha smesso di essere correlato con appunto la sua stagionalità vediamo se andiamo ad inserire il prezzo attuale vediamo che stefino al mese scorso i prezzi del cambio franco svizzero euro si muovevano esattamente come la propria stagionalità questa correlazione è molto cambiata perché è molto cambiata e si è abbassata si è abbassata perché il cambio franco svizzero euro ha iniziato a muoversi in maniera molto molto laterale un movimento che è già iniziato appunto ad agosto scorso dove se vi ricordate ci aspettavamo appunto un forte rialzo del franco svizzero che sarebbe culminato appunto nei primi dieci giorni di agosto è successo se vi ricordate cosa è successo guardate il movimento del cambio franco svizzero euro si è mosso in maniera appunto molto laterale vuol dire sostanzialmente in gergo tecnico che i prezzi sono si sono mossi appunto in un range tra l'altro in un range sempre più stretto se vedete qui sul grafico io ho disegnato una specie di cuneo per chi è appassionato di analisi tecnica che è questa diciamo filosofia perché ovviamente non possiamo chiamarla scienza che studia i grafici dei prezzi e cerca di interpretare dalle figure che si formano sul grafico quello che potrebbe essere l'andamento futuro questo si chiama proprio un cuneo ed è la classica figura che i mercati che i prezzi disegnano nel momento in cui c'è molta incertezza sul mercato da un lato abbiamo molta incertezza sul mercato ma dall'altro questo tipo di disegno che i prezzi vanno a formare crea una grande opportunità perché crea una grande opportunità perché prima o poi da questi da questa figura da questo cuneo i prezzi devono uscire dovranno uscire e con buone probabilità quando i prezzi appunto di qualsiasi strumento finanziario e adesso sta succedendo sul franco svizzero contro l'euro ma è qualcosa che succede assolutamente su tutti gli strumenti finanziari del mondo quando i prezzi escono da una parte o dall'altra di questa figura tendenzialmente hanno un movimento molto molto importante al rialzo o al ribasso quello che cercheremo di capire adesso è quando sarà questo movimento e se sarà appunto al rialzo o al ribasso perché c'è un movimento molto repentino e molto forte quando i prezzi escono da queste figure molto semplicemente dovete immaginare il prezzo di uno strumento finanziario come se fosse appunto il il lo strumento che misura i terremoti dopo un periodo dove appunto il la terra diciamo si accumula 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 tanta energia in questo caso dovete immaginare che il prezzo venga schiacciato dai venditori nella parte alta e dai compratori nella parte bassa il prezzo viene sempre 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 più schiacciato fin tanto che a un certo punto una delle due forze o i compratori sotto i venditori sopra vincono tra virgolette e il prezzo appunto esplode da una parte o dall'altra quindi dove andrà il prezzo su o giù i franchi svizzeri incrementeranno il loro valore oppure no questo è quello che cerchiamo di capire ora la prima informazione che abbiamo la otteniamo ancora dalla stagionalità dove vediamo una cosa interessante ovvero vediamo che appunto nonostante la correlazione in questo momento del prezzo attuale sia un po bassina è molto probabile che questa situazione di stallo si blocchi appunto a cavallo tra il mese di ottobre e il mese di novembre quindi diciamo tra la fine del mese di ottobre e l'inizio del mese di novembre perché perché tendenzialmente i trend stagionali non solo tendono a essere rispettati dai prezzi degli strumenti finanziari in questo caso stiamo parlando appunto di chf euro ma a essere molto rispettati sono anche proprio le tempistiche i momenti in cui c'è un cambio di trend e quindi se uniamo il fatto che a fine di ottobre inizio di novembre c'è un cambio di trend perché appunto da un periodo tendenzialmente ribassista si torna ad un periodo potenzialmente rialzista per il franco per il franco svizzero periodo rialzista che continua appunto fino al alla fine di dicembre vediamo che tendenzialmente nella storia negli ultimi sette anni il 71 per cento delle volte questi in questo periodo i prezzi del franco svizzero sono saliti e hanno guadagnato mediamente l'1,7 per cento negli anni in cui questo non è successo vediamo che i prezzi del franco svizzero sono scesi solamente dell'1,11 per cento e solamente dell'1 quindi diciamo che questo periodo questa finestra temporale che parte da inizio ottobre arriva fino a fine anno è potenzialmente molto rialzista per il franco svizzero cosa che ci fa capire già ci dà un indizio di dove potranno andare i prezzi una volta che usciranno da questo cuneo diciamo ma soprattutto questa tesi rialzista per il franco svizzero viene anche diciamo supportata dallo stato attuale dell'economia e europea e svizzera quella che state vedendo in questo momento è il dato della crescita dell'economia europea GDP gross domestic product prodotto interno lordo detto in italiano e come vedete l'unione europea è in un momento veramente di dubbio perché appunto oramai dal 2023 l'economia in europa non cresce e appunto siamo ad una crescita davvero risicata che va dallo 01 02 in questo momento siamo 02 ma non dico che siamo vicini ad una recessione ma diciamo che questi dati per l'europa sono un po preoccupanti cosa succede quando appunto un'economia è preoccupante tendenzialmente chi ha del denaro tende a spostare questo denaro verso un'altra economia che funziona meglio e in momenti diciamo di incertezza economica gli investitori tendono ad acquistare o i dollari americani o il franco svizzero che sono anche chiamati beni rifugio appunto sono del degli asset degli strumenti finanziari dove gli investitori vanno a mettere i propri soldi proprio per stare un po più tranquilli in questo caso io credo che appunto il franco svizzero con le tempistiche che vi ho dato prima salirà nei confronti dell'euro proprio per questo motivo perché nonostante appunto l'economia svizzera sia molto più piccolina rispetto a quella europea sta dando dei segnali estremamente più positivi rispetto all'economia europea infatti vedete che nel secondo trimestre del 2024 addirittura abbiamo una crescita del 0.7 per cento che comparata allo 02 dell'europa mi fa proprio pensare che tendenzialmente gli investitori appunto tenderanno a continuare a parcheggiare a mettere investire i loro denari nei franchi svizzeri ora ci aspettavamo appunto il momento di debolezza per il franco svizzero che stiamo vivendo in questo momento momento appunto movimento ribassista per il franco svizzero dovuto anche avevamo anticipato nella scorsa puntata al taglio dei tassi di interesse che sono passati da 1 e 25 al 1 per cento la banca nazionale svizzera ha deciso proprio di abbassare ulteriormente i tassi di interesse ma io rimango convinto che nonostante mettere i franchi svizzeri mettere i soldi in franchi svizzeri renda lo 0 25 per cento in meno rispetto a qualche settimana fa appunto con l'inizio la fine di questo mese l'inizio del mese prossimo potremo avere belle sorprese perché l'economia svizzera sta funzionando meglio rispetto all'economia europea e quindi gli investitori istituzionali a mio avviso saranno molto tentati dall'investire i loro soldi la loro liquidità appunto nel franco svizzero quindi speriamo che non mi sentano i miei colleghi che appunto sono eh operativi e fanno i cambi a cambia valute ma se non avete assolutamente fretta di cambiare i vostri franchi svizzeri potrebbe assolutamente valer la pena aspettare perché a mio avviso diciamo nella seconda metà di dicembre potremmo avere dei prezzi estremamente più interessanti rispetto a questo momento se proprio devo lanciarmi in una previsione e ricorda tutti che prevedere il futuro è impossibile queste sono cose che dico in base a quella che è la mia esperienza sui mercati e ovviamente non affamate le vostre famiglie se avete bisogno di cambiare cambiate quando avete bisogno e questa è assolutamente una mia previsione basata su dati ma non vorrei mai che non cambiasse il vostro stipendio perché ascoltate una mia previsione se avete bisogno cambiate ma se non avete estremo bisogno di cambiare potrebbe essere molto interessante appunto attendere diciamo dalla metà di dicembre in avanti perché appunto io sono abbastanza convinto che potremmo vedere un cambio franco svizzero euro salire tenete presente questo lo dico proprio per i quelli un po più tecnici tendenzialmente in analisi tecnica si chiama così questa questa disciplina ovvero quella di cercare di capire i movimenti futuri dai grafici e dai disegni che i prezzi vanno a formare sul grafico il target quindi il potenziale movimento a rialzo si calcola appunto vedendo quello che è calcolando l'inizio della figura quindi in questo caso l'inizio di questo cuneo e proiettandolo appunto dalla fine della figura in alto in questo caso ecco questo potrebbe tranquillamente essere il target del cambio euro chf euro per la metà del mese di dicembre quindi un cambio che in questo momento è a 1 e 0 6 a mio avviso potremmo trovarlo in area 1 e 10 questo appunto è però lo ripeto è una previsione di conseguenza ripeto potrebbe assolutamente cambiare tutto quanto e potrebbe assolutamente andare anche al contrario però ultimamente tra l'altro ci abbiamo anche preso quindi ci avete fatto tanti complimenti io sono convinto che questo potrebbe assolutamente succedere io vi ricordo ragazzi che se oltre a tenere d'occhio la pagina promozioni se fate il login all'interno del vostro account qui a sinistra trovate la pagina invita un amico qui avete un vostro link specifico per voi che potete condividere su whatsapp e mandare via email così che se appunto lo mandate a un vostro amico che non cambia ancora con noi e dovesse poi cambiare con noi in automatico riceverete il premio di 25 euro sia voi che il vostro amico avete tutto all'interno del vostro account e se avete qualsiasi domanda siamo sempre a disposizione qui per voi a cambiavalute.ch noi ci vediamo il prossimo mese con currency watch ciao ciao